Se state cercando un barbiere, o uno chef, o un fotografo, beh, buona fortuna! Sono tutti impegnati a scegliere una nuova auto, perché FCA ha pensato a chi lavora in proprio. Hai solo dicembre per scegliere Bonus Impresa, il vantaggio dedicato alle partite IVA sull'acquisto dei veicoli del gruppo. Ad esempio su Fiat 500X il bonus di 4.500 euro sul prezzo di listino. Scopri di più su bonusimpresa.it Ben trovati alla nuova puntata di BFC Education Blue Advisor, un format della casa editrice Blue Financial Communication, durante il quale stiamo andando ad approfondire tutti gli aspetti legati alla consulenza finanziaria. Nella puntata di oggi cercheremo di capire, grazie all'aiuto del nostro ospite di giornata, il professor Luigi Rizzi, managing partner di Gym Legal STA, cercheremo appunto di capire quali sono gli adempimenti normativi che i consulenti finanziari devono adempiere per la corretta gestione del loro rapporto con la clientela. Questa tematica è una tematica di sicuro interesse in questo momento, un momento caratterizzato da MIFI 2, dal nuovo albo dei consulenti finanziari, che prevede anche una sezione dedicata alle SCF, alle società di consulenza finanziaria, quindi ai consulenti autonomi. È un tema che ben si lega anche con una tematica assolutamente importante come quella dei costi, che i consulenti finanziari, soprattutto autonomi, devono sostenere per svolgere al meglio la loro attività. E sicuramente tutta la tematica riguardante la normativa ha un impatto sui costi che questi professionisti devono sostenere annualmente per svolgere al meglio e essere in regola nello svolgimento della loro attività. Cerchiamo subito di entrare nel vivo con la prima domanda che vado a porre al professor Rizzi, quella relativa all'avvio delle nuove sezioni, come dicevo prima, del nuovo albo dei consulenti finanziari e quali quindi sono gli obblighi normativi che devono essere rispettati dai consulenti finanziari autonomi, in questo caso nei confronti della clientela, per svolgere al meglio la propria attività e dal punto di vista naturalmente della documentazione contrattuale. Bene, grazie di avermi invitato qui oggi e con piacere intervengo in quanto siamo proprio all'inizio di una nuova era dell'industria dei servizi finanziari perché ricordo appunto che il nuovo organismo dei consulenti finanziari, l'OCF, è diventato pienamente operativo dal primo dicembre. Questo quindi segna un cambiamento del sistema e dell'architettura istituzionale molto rilevante. Dal primo dicembre quindi l'OCF ha già iscritto alcuni consulenti finanziari autonomi al nuovo albo, sia come persone fisiche che come società di consulenza finanziaria. I consulenti finanziari diciamo in particolare hanno un obbligo, forse più importante di tutti gli altri, quindi che presiede l'intera loro attività, che è quello di comportarsi, quindi svolgere la loro attività in modo equo e professionale, al fine di servire al meglio gli interessi dei loro clienti. Questo quindi è il principio base da cui poi si declinano tutta una serie di altre disposizioni contrattuali e di regole di condotta. Per quanto concerne le informazioni contrattuali, queste devono essere fornite in modo chiaro e non forviante. Quindi è un principio fondamentale anche questo, quindi un obbligo in capo ai consulenti. Anche quando il consulente, chiaramente per promuovere la propria attività, svolge un'attività promozionale attraverso delle comunicazioni pubblicitarie, ebbene queste comunicazioni pubblicitarie debbono essere riconosciute dai clienti, sia potenziali che effettive, come tali. Per quanto concerne la documentazione contrattuale, sempre, il consulente deve essere in grado di acquisire quelle informazioni dal cliente per comprendere le sue caratteristiche essenziali. E questo è finalizzato poi a prestare al meglio, quindi nel modo corretto, ricordiamoci appunto l'obbligo di servire al meglio gli interessi del cliente, è proprio finalizzato quindi al raggiungimento di questo risultato, che poi, come magari vedremo più avanti, attiene anche ai profili dell'adeguatezza delle raccomandazioni, dei consigli che i consulenti finanziari forniscono ai propri clienti. Ma effettivamente il contratto di consulenza in materia di investimenti, che è un po' il cuore della tutta la documentazione che il consulente finanziario deve produrre, come viene stipulato e quali sono gli elementi essenziali di questo contratto? Sì, allora, il contratto che attiene ai servizi di investimento, sin dalla legge 1.91, è un contratto in forma scritta. E ricordiamoci che questo principio vale per tutti i servizi di investimento e oggi lo è anche per la consulenza in materia di investimenti. Ricordiamoci che se non viene stipulato per iscritto, la pena è la nullità. Quindi non solo deve essere fumato per iscritto, ma normativa, la regolamentazione contenuta nella MIFI 2 e poi nel test 1 della finanza e nella regolamentazione CONSOB è molto dettagliata e quindi prevede con molto dettaglio, quindi con un ampio grado di dettaglio, come, quale deve essere il contenuto del contratto. Quindi questo, diciamo, è disciplinato a livello regolamentare, per cui è un contenuto necessario, da cui non si può prescindere. Vi sono poi altri elementi contenuti sempre nella legislazione e nella regolamentazione che attengono la durata del contratto e devono essere anche indicate le modalità di rinnovo del contratto. Quindi come è possibile, diciamo, poi eventualmente rinnovare questo contratto che è tipicamente un contratto di durata. Il altro aspetto importante contenuto nella direttiva MIFI 2 e quindi anche nella regolamentazione italiana è quella relativa ai metodi di comunicazione tra il consulente e il cliente. Ebbene, come si comunica? Questo deve essere specificato nel contratto stesso, così come se è consentito o meno l'utilizzo di comunicazioni elettroniche. Poi andiamo, diciamo, la normativa non si ferma appunto a queste previsioni, quindi legate appunto al contenuto, alla durata, ma attiene anche poi gli strumenti finanziari, per cui ricordiamo che i consulenti finanziari possono svolgere il loro servizio di consulenza non su tutti gli strumenti finanziari indicati nel test studio della finanza, ma solo su alcune categorie di esse, le più importanti, però, diciamo, questo è sempre, diciamo, bene ricordarselo. La scelta del legislatore è stata quella di limitare la possibilità per il consulente di fornire le proprie raccomandazioni, quindi il proprio servizio, sui valori immobiliari e sulle quote di OICR, quindi dei fondi comuni. E questo chiaramente deve essere indicato, diciamo, espressamente nel contratto. Poi ancora, diciamo, le disposizioni normative prevedono altre importanti informazioni che riguardano le raccomandazioni, quindi come il contratto deve indicare come queste raccomandazioni vengono fornite e poi tutti i profili dell'adeguatezza, cioè quindi se queste raccomandazioni sono adeguate oppure non lo sono. Ecco, questi sono, diciamo, i principali aspetti. Da ultimo, ma per questo non meno importante, è l'aspetto della remunerazione. Assolutamente. Questa è una materia, diciamo, molto importante che deve essere espressamente indicata, diciamo, nel contratto. Direi che abbiamo fatto un quadro complessivo di quello che è il contratto di consulenza. Andrea, adesso nel dettaglio. Il dottor Rizzi ha accennato, appunto, al tema delle raccomandazioni. Vorremmo cercare di capire meglio cosa sono le raccomandazioni, che sono un oggetto tipico del servizio di consulenza e quali sono gli addempimenti normativi, in tal senso, prima e durante la prestazione del servizio. Sì, diciamo, la raccomandazione, diciamo, da parte del consulente, quindi è l'espressione della sua attività, quindi è il consiglio di investimento oppure di disinvestimento, come dicevo prima, di valori immobiliari o di quote di OCR. Quindi è il, diciamo, portato di un processo di svolgimento del servizio di consulenza che parte dalla conoscenza del cliente, la quale avviene, appunto, sia nella fase precontrattuale, in cui, appunto, il consulente incontra il potenziale cliente e acquisisce informazioni sul cliente. Vedremo poi magari dopo, sugli obiettivi di investimento, sulla associazione finanziaria su altri elementi importanti, ma poi prosegue per tutta la durata del rapporto, per cui il consulente si deve sempre preoccupare di raccomandare operazioni di acquisto o di vendita di strumenti finanziari, ricordiamo sempre valori immobiliari e quote di OCR, se e queste sono adeguate alle informazioni e al profilo del cliente, ed è un aspetto chiave, diciamo, del rapporto. Passiamo adesso ad un'altra tematica di sicuro interesse, vale a dire quella dei costi e degli oneri legati al contratto di consulenza. Quali sono gli adempimenti dal punto di vista informativo che il consulente è tenuto a fare nei confronti dei propri clienti? Allora, consideriamo appunto che tutta la disciplina dei consulenti di investimento, cosiddetti fiolli, è basata appunto su un'unica forma di remunerazione, quella che il consulente percepisce dal proprio cliente. Questo al fine di assicurare l'indipendenza, che veramente è un elemento fondamentale dell'attività del consulente e che poi consente al cliente di avere fiducia nel proprio consulente. Quindi ricordiamoci, appunto, io sono partito dal servire al meglio gli interessi del cliente ed agire in modo eco e professionale. Questo implica che sia nel contratto, ma poi vediamo anche nell'informativa successiva, l'informativa quindi sulla prestazione del servizio, vi deve essere una grande chiarezza sui costi del servizio, quindi sulla remunerazione, come si compone e questo tema dei costi e degli oneri è un tema che avrà molto impatto, diciamo adesso con l'applicazione di questa normativa, perché i clienti per la prima volta in Italia saranno messi in grado di conoscere esattamente quali sono i costi del servizio. Quindi c'è un grado di dettaglio, una trasparenza totale, perché i clienti avranno anche una indicazione del costo rispetto a rendimento, per cui potranno apprezzare la qualità del servizio anche confrontando il costo dell'attività rispetto al rendimento che hanno avuto dall'investimento in strumenti finanziari. Potranno avere queste informazioni in forma analitica e saranno informazioni che necessariamente durante il corso del rapporto il consulente dovrà fornire. Quindi ci rendiamo conto che veramente è questo è il cuore probabilmente di uno dei pilastri del servizio di consulenza. Ma abbiamo parlato finora di tanti documenti, diciamolo in maniera magari semplice, che il consulente finanziario autonomo è tenuto a redigere per poter svolgere al meglio la propria professione. Tutta questa documentazione come deve essere tenuta e come deve essere registrata? Quali sono le indicazioni in tal senso? Diciamo che in capo ai consulenti abbiamo un obbligo di agire in modo efficiente, questo sia per fornire al meglio il servizio, quindi di nuovo fare gli interessi del cliente, ma sia per consentire alle autorità di poter controllare il rispetto da parte del consulente degli obblighi normativi che sono posti nei confronti del medesimo. Quindi la conservazione della documentazione deve essere ordinata, può essere ovviamente in forma cartacea o in forma digitale. Normalmente oggi con le nuove tecnologie che sono a disposizione si preferisce magari una archiviazione informatizzata perché questa poi può consentire anche una conservazione anche più sicura, perché sappiamo che i formati su supporto elettronico sono certamente più sicuri di formati cartacei, quindi documentazione contrattuale che può essere esposta a rischi di danneggiamento o d'altro. Inoltre la documentazione in forma elettronica consente meglio ai vigilanti, quindi alle autorità, quindi all'OCF in primo luogo, di poter chiedere informazioni sull'attività del consulente o della società di consulenza finanziaria. Quindi nell'ambito dei loro controlli, quindi sia a distanza che ispettivi che possono eseguire, sicuramente potranno avere queste informazioni e vi è sempre stato posto un obbligo in capo agli intermediari o comunque ai soggetti che operano nel settore finanziario di assicurare la ricostruzione ex post dell'attività. Quindi il consulente dovrà essere in grado di poter ricostruire la raccomandazione e l'attività che ha svolto in un certo periodo antecedente, per cui gli obblighi di conservazione e registrazione sono molto importanti e non possono essere sottovalutati. Credo che questa sia una tematica molto importante, molto utile da conoscere al meglio per un consulente finanziario autonomo. Ci potrebbe fare magari un esempio concreto di tenuta e conservazione di questa documentazione, che sia magari cartacea o che sia invece in formato elettronico? Sì, allora, innanzitutto noi dobbiamo assicurare la conservazione della documentazione che viene fornita sia in sede precontrattuale che in sede contrattuale. Quindi il contratto, diciamo, di consulenza con tutti gli allegati, il questionario sull'adeguatezza e anche le altre informazioni, quindi le policy, diciamo, che vengono normalmente fornite al cliente per meglio conoscere l'attività del consulente. Successivamente abbiamo detto che vi sono appunto delle raccomandazioni e la normativa prevede anche una relazione di consulenza, quindi una relazione scritta, dove appunto il consulente riassume l'attività che ha svolto e indica al cliente perché ha fornito quelle raccomandazioni dimostrando che effettivamente quelle raccomandazioni erano adeguate rispetto al profilo di rischio, agli obiettivi di investimento e alla situazione finanziaria del cliente medesimo. Queste informazioni devono essere conservate per l'intera durata della relazione, quindi per l'intera durata del contratto e anche, diciamo, in caso di cancellazione dall'albo per 5 anni successivi, perché l'OCF, l'organismo dei consulenti finanziari, quindi questa nuova authority che è pienamente operativa dal 1 dicembre, quindi da tempo recente, potrebbe fare delle ispezioni o chiedere quindi della documentazione, così come in caso di reclamo oppure di adesione da parte del cliente all'arbitro bancario, all'arbitro finanziario che è istituito presso la consul, in quanto è prevista questa forma di tutela. Certo, tornando un attimino indietro sui controlli che possono essere fatti sulla documentazione, immagino che sia quindi solamente l'OCF l'organismo che può quindi fare questi controlli, ma quali tipi di controlli possono essere effettuati e soprattutto può essere solo l'OCF ad effettuare questi controlli? Allora, l'OCF è sicuramente il soggetto deputato ai controlli sull'attività del consulente, però ricordiamo che il consulente, quindi sia se è persona fisica, quindi autonomo, quindi CFA, sia società di consulenza finanziaria, è soggetto a rispetto di altri obblighi che attengono la sua attività. Pensiamo agli obblighi in materia di antiriciclaggio, quindi sappiamo appunto che il consulente è tra i destinatari della normativa antiriciclaggio, così come le banche, le società finanziarie, le SIM, le SGR, i professionisti stessi ed altre categorie di soggetti che sono indicati nella normativa antiriciclaggio, anche il consulente finanziario è stato assoggettato a questi obblighi, per cui non si può escludere che vi possono essere dei controlli da parte della Guardia di Finanza o anche magari dall'Unità di Informazione Finanziaria e quindi questo è sicuramente un aspetto di cui tener conto. Poi penso anche alla privacy, sappiamo che soprattutto con il regolamento europeo, il GDPR, è diventata una materia che tutti gli operatori economici e professionali devono osservare con molta attenzione, per cui vi potrebbe essere anche un controllo, quindi un'ispezione da parte dei funzionari dell'autorità per la privacy, quindi non è solo l'Ocf, chiaramente l'Ocf è il soggetto che è più diretto nella vigilanza e nella regolamentazione perché è una vigilanza continua, non è soltanto in occasione magari di specifici fatti, però vi possono essere anche altri soggetti, senza poi menzionare ovviamente l'autorità fiscali o altri soggetti pubblici che sono deputati ai controlli. Perfetto, io ringrazio il professor Rizzi, credo che abbia dato appunto una bella visione, abbiamo approfondito bene la tematica riguardante gli addempimenti normativi per i consulenti finanziari autonomi, abbiamo esaurito appunto un bel po' di argomenti passando appunto da tutta la documentazione, agli oneri, ai costi, fino anche ai controlli e alla tenuta della documentazione. Ringrazio nuovamente il professor Rizzi e do appuntamento a tutti i nostri telespettatori per la prossima puntata di BFC Education Blue Advisor. Consulenti finanziari, siete pronti? Parte l'albo, aggiornamento, contabilità, contrattalistica, gestione e portafoglio. Blue Advisor, la piattaforma per i consulenti finanziari. Prova gratis www.blueadvisor.com www.blueadvisor.com